Ho disposto una ordinanza che accolga la disponibilità fornita dall'ente Santo Spirito che consentirà l'utilizzo di numerosi loculi nel cimitero di Sant'Orsola e ordinanza che riduce da 30 a 25 anni i tempi di decadenza e le concessioni cimiteriali. Al tempo stesso, utilizzando la circolare del Ministero della Salute dell'11 gennaio di quest'anno, stiamo procedendo a tutte le altre operazioni con il massimo di celerità possibile. Tra questi ho sollecitato il collaudo delle opere già realizzate e la permessa in sicurezza del Monte Pellegrino per consentire l'utilizzo di campi di rinnovazione sottostante alla montagna dei Palermitani. Continueremo su questa strada seguendo le procedure accelerate grazie alla circolare del Ministro della Salute di 15 giorni fa e al tempo stesso garantendo la cremazione a spese dell'amministrazione comunale sia pure fuori città ovviamente per quelle salmi di defunti cui i familiari prestino consenso.